Abbiamo lavorato assieme al governatore Rosario Crocetta e al ministro D'Alì all'emendamento al Senato al decreto sulla pubblica amministrazione per risolvere il problema dei precari degli enti locali siciliani. Con questa norma almeno il 70% dei comuni potranno stabilizzare i precari, mentre per il restante 30% creeremo un bacino unico per avviare anche la loro stabilizzazione superando alcuni vincoli. Lo dice l'assessore regionale alle autonomie locali Patrizia Valenti. L'emendamento consentirà di appostare le risorse in capo alla regione in modo da non appesantire quei comuni che hanno rapporto tra spese correnti e spese per il personale già al limite consentito per poter stabilizzare i precari che in Sicilia sono circa 24.000. Con questa norma su 380 comuni il 70% potrà stabilizzare i lavoratori. Il personale precario del restante 30% sarà inserito in un bacino unico in modo da avviare anche per loro la stabilizzazione. È un risultato positivo ottenuto grazie al lavoro del governo Crocetta e del ministro Dalia, aggiunge Valenti. Questo dimostra che quando si passa dalle parole ai fatti si raggiungono obiettivi importanti. È davvero positiva e importante l'approvazione dell'emendamento al decreto sulla pubblica amministrazione avvenuta in commissione bilancio al senato che dà un contributo di chiarezza sulla situazione dei precari siciliani. Lo afferma Giampiero Dalia, ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Le risorse della regione erogate agli enti territoriali per finalità di proroga, aggiunge Dalia, non verranno conteggiate nel calcolo della spesa del personale di ciascun ente. Con questo intervento, frutto del costruttivo lavoro di questi mesi, conclude Dalia, si dà la possibilità di avviare un percorso di proroga finalizzato a una successiva stabilità dei rapporti di lavoro. in linea con i meccanismi di reclutamento previsti nell'intero decreto.